Il presidente facente funzioni della regione Spirlia ha incontrato a Reggio Calabria Ilaria, Danna e Antonio Cugliandro, rispettivamente presidente e allenatore della società Reggio Calabria Basket in Carrozzina, unica squadra in Serie A da macerate in giù. Avere una squadra calabrese, una delle otto in Serie A, detto Spirlia, rappresentare una così ampia parte del territorio nazionale è veramente un grande onore. Sono vicino i ragazzi che vogliono farcela, a prescindere che con grande coraggio e tenacia praticano questo sport, nonostante le difficoltà aggiuntive a cui la vita li ha sottoposti. All'incontro ha partecipato anche l'assessore regionale delle infrastrutture, Domenica Catalfamo. Questa è, per quanto ci riguarda, un grande motivo di orgoglio. Io, così come la presidente Santelli, sono molto vicino, come lo è stata Iole, lo sono anch'io, molto vicino ai ragazzi che vogliono farcela prescindere, che continuano con grande coraggio e con grande tenacia a praticare lo sport, nonostante le difficoltà aggiuntive a cui la vita li ha sottoposti. ho promesso a loro il massimo impegno, ho promesso a loro la massima attenzione proprio perché anche in questo momento di Covid, anche in questo momento così pesante, non manchi l'attenzione da parte della Regione Calabria, da parte del Presidente della Regione, da parte della Giunta regionale, in maniera tale che questo sport, questa possibilità di partecipazione alle gare non trovi difficoltà, non trovi neanche, come dire, impedimento. Grazie. Grazie.